Salve tutti amici di Amazon, eccoci qua in un unboxing di che cosa? Di un altro cinturino, dato che sono in fase di testa di cinturini Cinturino questo qua per il nostro Fitbit Versa 2 Ok, vedo che già qua, a differenza del cinturino che ho appena provato che aveva le clip per poterlo incastrare e tenerlo saldo non si riuscivano a tenerlo incastrato perché erano troppo corte qua vediamo che abbiamo quattro belle clip, quindi anche due sostitutive nel caso perdessimo le prime due, quindi le tiriamo fuori le andiamo a installare, vediamo come si presenta questo cinturino ovviamente allora, vediamo un po' come funziona teoricamente una clip va qua e una clip va di là quindi mettiamo questa, che teoricamente andrà messa in questo modo teoricamente penso proprio di sì ok, vabbè, dovrebbe stare così cerchiamo di capire come va indossato intanto perché non sto capendo come va indossato allora sembra un po' tanto strettino come braccialetto, come polsino ma per questo si può spostare dove si vuole ok, questo si può spostare dove si vuole perfetto, allora va messo in questo modo quindi voi lo indossate in questo modo e basta ok, perfetto, ho capito ho capito andiamo a mettere questo si stringe ok, quindi ok, allora teoricamente dovrebbe mettersi così o così così ok, quindi mettiamo la prima clip ok, vado a montarlo e vi mostro come si presenta perché perdo troppo tempo eccoci qua qualche piccolo problema tecnico non riuscivo ad attaccare le clip ce l'abbiamo fatta sono collegate adesso non chiedetemi se è dritto o storto comunque se è storto basta che lo girate comunque il cinturino pensavo che fosse corto il laccetto invece è anche largo eccolo qua vedete benissimo che sta la perfezione ripeto, non so se questa zona qua deve stare per forza di qui o di qui comunque con questo meccanismo qua voi potete andare a regolarlo in base al vostro polso ok, quindi questa qua è della stoffa molto morbida che sicuramente al posto della pelle o del silicone magari vi darà un effetto meno meno bagnato nel senso di sudore quindi eccolo qui è perfetto a me non stringe avete anche guardate ho anche un po' di posto quindi veramente come se stessa la perfezione quindi soddisfatto soddisfatto dovevo anche altre due clip nel caso prendessimo queste e per toglierlo basta che voi tirate lui si toglie e per accorciarlo vi basterà semplicemente prendere questo lo tirate questo lo spostate e giustamente l'avrete più corto eccolo qua l'avrete più corto ancora lo tirate ancora fino a che avrete sono un po' sono un po' indietro ok, questo coso qua potete muoverlo dove volete quindi o da una parte o dall'altra potete spostarlo dove più vi piace diciamo che comunque il discorso è che potrete vabbè sto cercando di accorciarlo vediamo se volesse accorciarlo bene scusatemi sto cercando di capire come funziona io credo comunque che per accorciarlo dovreste metterlo esatto tra questi due vabbè avete capito potete regolarlo come più vi piace in base al vostro polso quindi da il massimo che ripeto il mio polso è più che grande fino a al polso anche da bambino ecco comunque va benissimo soddisfatto cinturino decisamente promosso un corso da Thomas e a un prossimo video e una prossima recensione qui su Amazon ciao ciao